Ho voluto convocare il Consiglio regionale per la seconda volta in videoconferenza online perché era importante approvare quella legge che consente di offrire un'indennità in più, piccola indennità ma vuole essere un segnale, un simbolo da parte del Consiglio regionale per quegli operatori, medici, infermieri, OS, che sono a contatto in prima fila con coloro che si curano, contrastano il Covid-19, il coronavirus e quindi un'indennità che doveva essere assunta in accordo con le organizzazioni sindacali ma trasformata nella possibilità che la legge lo prevedesse. È quello che abbiamo fatto oggi insieme alla discussione di altri argomenti, il ponte fra Albiano e Caprigliola, una serie di bilanci che devono essere approvati dalle agenzie e degli enti partecipati della regione entro il 30 di aprile. Insomma, siamo in emergenza ma il Consiglio regionale non si ferma.